Siamo con Renzo De Antonia, delegato provinciale del CONI qui a Venezia. De Antonia, ancora un anno, un'occasione per esporre tutte quelle che sono le vostre discipline all'interno della Venice Marathon. Sì, anche quest'anno siamo qui e ringrazio la Venice Marathon per la disponibilità e l'apertura verso tutto lo sport in generale e non solo per quanto riguarda la corsa, campestre e l'atletica in generale. Credo che le imprese che immagino abbiate fatto qui intorno e vedere quanti bambini ci sono che provano lo sport siano già di per sé significative dell'importanza di questa manifestazione. In realtà è per questo che i CONI provinciali lavorano, per promuovere lo sport e per far sport ai bambini soprattutto. Decisamente è una giornata che apre i cuori a vedere tutti questi bambini che provano, così magari per la prima volta, alcune discipline. Sicuramente, oggi in particolare ci sono i ragazzi delle scuole elementari, mentre domani saranno i ragazzi più grandi. Sicuramente, perché è questa l'età in cui è giusto approcciare lo sport, non in modo agonistico, ma divertendosi in modo ludico. Per quanto riguarda la vicinanza allo sport dei bambini, che trend c'è? Sappiamo quali sono le difficoltà all'interno delle scuole, ma voi come CONI che obiettivi vi ponete e quali progetti avete? Io credo che in questo momento l'importante sia riuscire a mantenere le percentuali, i dati di approccio allo sport degli scorsi anni. Stare attenti che non ci sia un calo, perché dobbiamo fare una considerazione. Su 25 miliardi di euro, che è il business complessivo dello sport, 22, quindi quasi tutto viene pagato dalle famiglie. Ed è chiaro che nel momento in cui le famiglie sono in difficoltà, anche le spese per lo sport diventano importanti per una famiglia.